buongiorno a tutti ragazzi questo video lo volevo fare già ieri ma non stavo tanto bene ho detto vabbè lo faccio appena mi sento un attimo meglio lo faccio allora vogliamo parlare del calcio mercato del padova si parliamone intanto mettete un bel like un commento di supporto perché ne ho tanto bisogno come sapete già nel mercato estivo ho fatto tanti video soprattutto è andato bene quello di ronaldo al vicenza tra l'altro tra due giorni il caro ronaldo lo riaffrontiamo al menti comunque mirabelli vuole smontare la squadra quanto pare ora vi dico il perché se non lo sapete umberto germano centrocampista mezzala esterno destro terzino destro duttilissimo tre anni al padova ma è una parola fuori posto impegno sudore venduto venduto non so le cifre non voglio saperle perché mi incazzo alla triestina alla triestina ragazzi alla triestina voglio capire adesso le mosse per la fascia destra perché abbiamo vabbè belli kirwan mai rotto e vasic voglio capire tra l'altro voglio capire che giocatori in rosa abbiamo al momento che facesse così bene tutti quei ruoli io non lo so ma soprattutto e qui io invoco i miei amici di palermo i miei fratelli rosa nero venitemi a dire che è un bel acquisto anche se in prestito non so altro spero sia solo prestito secco intanto c'è il cane che apre la porta molto bene voglio sapere se secondo voi è un bel l'acquisto roberto crivello roberto crivello vi posso assicurare che i tifosi non vedevano l'ora che se ne andasse per loro era roberto carlos sì al contrario roberto crivello io se riesco menziono anche il cun qui glielo mostro il video venitemi a dire che loro non vedevano l'ora di di mandarlo via o se lo volevano tenere io credo che volevano mandarlo via pregavano la santuzza tutti i giorni per mandarlo via ma non è finita qui noi abbiamo zanchi e curcio giusto sulla fascia senza e no e no e no ho letto che zanchi potrebbe partire in prestito di destinazione lecco ma è incredibile vogliamo andare in serie di ragazzi mirabelli sta facendo uguale a quando era al milan con yong dong li vuole distruggere la squadra vuole fare tanti acquisti passiamo alle cose formali e poi e poi il milan quel milan cosa ha fatto schifo schifo ma soprattutto un gurlian là quell'armeno vuole puntare solo all'en che ha battuto il pari san germain tra l'altro o vuole darci una mano anche noi perché se non vuole che ci venda qualcun altro che magari ha più voglia di salvare questa povera squadra questa piazza che non merita questo ma voglio vedere ce la facciamo andare in serie di quest'anno senza fallire direttamente sul campo oppure falliamo oppure riusciamo a fare una seconda parte di classifici di campionato decente in cui la classifica la vediamo un po meglio perché al momento non voglio guardarla ho paura c'è il film non aprite quella porta e ora c'è il film prossimamente ai cinema al porto astra o al day space come volete non guardate la classifica perché mi sanguinano gli occhi detto questo se ci saranno altri video sfogo li farò se ci saranno degli acquisti che mi faranno esultare li farò e spero di farli prima di tutto lascio a voi il commento fatemi sapere la vostra ciao a tutti ragazzi e ancora buongiorno grazie mirabelli grazie